16 e 50 minuti, ultima parte della seconda ora di ECOBOX, l'attualità di ECORADIO, ben ritrovati da Fabio Camillacci, ricordo il sondaggio di oggi, diritto di voto a 16 anni, è giusto secondo voi? Per i vostri interventi in diretta a ECOBOX potete chiamare il numero verde 800 029 727, 800 029 727, potete esprimere la vostra opinione attraverso un sms al 349 005 8720, 349 005 8720, quindi con un messaggio a questo numero oppure con una mail a ECOBOX, chiocciola, ecoradio.it, ecobox, chiocciola, ecoradio.it. Ogni giorno a quest'ora più o meno abbiamo sempre lo spazio dedicato alla salute, tra poco in qualche modo parleremo di salute, ma come sempre ogni giorno ne parliamo con la nostra Silvia Lanzarotto, oggi però visto che a Perugia per seguire una manifestazione, una conferenza internazionale, Local Solution for Change, non l'abbiamo, qui l'abbiamo in collegamento telefonico, in qualche modo da quello che sta seguendo Silvia Lanzarotto si ricollega, possiamo dire così, alla salute. Buon pomeriggio Silvia. Ciao Fabio, buon pomeriggio. Sì, effettivamente i cambiamenti climatici, lo sappiamo tutti, influenzano profondamente la nostra vita. Il legame tra i cambiamenti climatici e problemi legati alla salute è stato comunque riconosciuto anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tra l'altro ci sono anche dei dati importanti in tutto il mondo, in particolar modo in Europa, ad esempio in concomitanza con l'ondata di calore che si è avuta nell'estate del 2003, si sono registrate 70 mila morti in eccesso in 12 paesi europei rispetto alla media di quel periodo dell'anno. Quindi sicuramente i cambiamenti climatici vanno a colpire i prerequisiti fondamentali della nostra salute, che sono gli alimenti, l'acqua e l'aria, ma noi ci sentiamo minacciati, esistono popolazioni del mondo per le quali il cambiamento climatico sta diventando davvero una questione di vita o di morte. Ecco, se ne parla come detto a Perugia, stai seguendo questa conferenza internazionale, ricordiamo un po' di cosa si tratta e oltre ai cambiamenti climatici tratta anche altri temi naturalmente. Sì, i temi sono i più vari. Allora, la conferenza si chiama Local Solution for Change. Come suggerisce il nome, si tratta di soluzioni concrete in ambito locale, infatti organizzata dall'Alleanza per il Clima, che è una rete di 1.500 enti locali di tutta Europa che si scambiano strategie dall'edilizia sostenibile alla mobilità sostenibile per riuscire ad incidere sui cambiamenti climatici, perché vediamo che a livello internazionale si fatica a raggiungere un accordo. Si parla di edilizia sostenibile, di mobilità sostenibile, anche di salute. In particolar modo, come dicevo prima, di alcune popolazioni per le quali il cambiamento climatico sta diventando davvero una questione di vita o di morte. In particolar modo, l'Alleanza per il Clima, che quest'anno compie 20 anni di attività, dall'inizio è in collaborazione con il COICA, che è il coordinamento delle organizzazioni indigene della Cuenca amazzonica. Perché? Perché è fondamentale la testimonianza, la forza di queste persone, che purtroppo hanno la sfortuna di vivere in posti super ricchi, che fanno gola ai paesi industrializzati, perché ricchi di materie prime, e stanno subendo più di altri le conseguenze dei cambiamenti climatici. Sentiamo come opera questa organizzazione, ripetiamolo, il coordinamento delle organizzazioni indigene della Cuenca amazzonica assieme al suo coordinatore, che si chiama Diego Ivan Escobar, e che è anche il vicepresidente di Alleanza per il Clima. Sentiamo. Il COICA, già da 20 anni, si è organizzato con le amministrazioni locali europee, con l'obiettivo di creare l'Alleanza per il Clima e rafforzare a tutti i livelli, locale, nazionale e internazionale, la cooperazione e l'Alleanza tra Europa e popoli indigeni del Sud. Noi, del coordinamento delle associazioni indigene della Cuenca amazzonica, abbiamo varie alleanze nel mondo. Negli Stati Uniti abbiamo l'Alleanza amazzonica, in Asia l'Alleanza dei Boschi Tropicali e Tribali. Per il Clima abbiamo appoggio solamente dall'Europa. Partecipiamo a tutte le conferenze sui negoziati climatici, perché i cambiamenti climatici ci riguardano da vicino. Soffriamo siccità, inondazioni, deforestazione. Il surriscaldamento sta colpendo duramente il nostro territorio. Diego Ivan Escobar, doppiato dal nostro Gianluca Martelliano, ricordo il coordinatore del territorio ambiente e biodiversità del COICA, coordinamento delle organizzazioni indigene della Cuenca amazzonica. Ci ha parlato dell'attività del COICA e del problema del cambiamento climatico. Torniamo a Perugia da Silvia Lanzarotto, ma ha parlato anche di altro Escobar. Sì, sicuramente. Ci ha ricordato che un popolo senza territorio non può sopravvivere. Ci sono problemi legati all'alimentazione, problemi ovviamente culturali, problemi legati all'acqua. A proposito di acqua, lunedì si aprirà in Bolivia una sorta di controvertice per le tendenze del cambiamento climatico. Si discuterà ovviamente tra popoli indigeni di cosa sarà di queste culture nel momento in cui non si riuscirà a trovare un accordo a livello internazionale. Sappiamo che queste culture hanno un potere negoziale purtroppo molto scarso. Questa conferenza è indetta dal presidente boliviano Evo Morales e parteciperanno anche molte star di Hollywood. È diventato quasi un evento trendy. Quello che importa è che si terrà a cuociabamba perché è l'anniversario della rivolta del 2000 contro la privatizzazione dell'acqua che si è tenuta in questa cittadina boliviana. E poi tra l'altro questa è la rivoluzione che porterà Evo Morales alla presidenza della Bolivia. Quindi i popoli indigeni hanno problemi legati a cambiamenti climatici, noi anche li abbiamo, problemi anche di salute. Torniamo al coordinatore per il territorio, ambiente e biodiversità del COICA, il coordinamento dell'organizzazione indigene della conca amazzonica di Eco, Ivan Escobar, che ci spiega come vivono le popolazioni indigene in questo momento in Amazzonia. Io credo che i paesi industrializzati dovrebbero anche prendere conoscenza. I paesi industrializzati dovrebbero prendere coscienza di quanto sta succedendo nei paesi in via di sviluppo, perché ad esempio progetti come l'IRSA, l'integrazione regionale sudamericana, sono megaprogetti mirati solamente al guadagno, a costruire grandi infrastrutture e strade per facilitare l'afflusso delle merci in Europa, a portar via legname. Anche in questo caso i paesi ricchi devono capire che l'Amazzonia va difesa. Siamo nel ventunesimo secolo e noi indios, mai come ora, possiamo considerarci in via di estensione. I nostri territori sono invasi da industrie straniere, ci stiamo ritrovando senza terra a causa dei petrolieri e degli esportatori di legname. Un popolo senza territorio, come può vivere? A Eco Box, l'attualità di Eco Radio, ancora Diego Ivan Escobar, coordinatore territorio, ambiente e biodiversità di El Coica, il coordinamento delle organizzazioni indigene della Quenca amazzonica, ci ha detto delle difficoltà di vita del popolo indigeno in relazione alle economie ricche. Silvia Lanzarotto, grazie per questi contributi. Naturalmente Local Solution for Change prosegue. Prosegue. Domani sarà la giornata conclusiva. Ci sarà l'Assemblea Generale di Climate Alliance, l'Alleanza per il Clima, per definire le politiche per il resto del 2010, ma anche per capire quali stanze portare a Cancun, in Messico, per il prossimo Summit sul Clima. Naturalmente ti ritroveremo all'interno dell'Arca di Eco Radio con Davide Gasparri. Sì, a più tardi. Grazie a Silvia Lanzarotto, inviata di Eco Radio a Perugia, per seguire questa conferenza internazionale Local Solution for Change, ricordo promossa dall'Alleanza per il Clima, in collaborazione con Regione Umbria, provincia e comune di Perugia, e in programma fino a domani, 16 aprile. Si è aperta ieri, rete europea di 1.500 enti locali, che proprio in occasione della conferenza perugina festeggerà i primi 20 anni di attività. L'Alleanza per il Clima, lo ricordo, opera proponendo strumenti concreti, utili per elaborare una strategia del clima a livello territoriale. Al centro della conferenza internazionale, anche le ripercussioni dei cambiamenti climatici sulla salute e la qualità della vita, non solamente dei cittadini del mondo industrializzato, ma anche, come abbiamo sentito, delle popolazioni indigene dei paesi in via di sviluppo. Una notizia che riguarda la vicenda Emergency prosegue la polemica, abbiamo detto prima della polemica tra Gino Strada e il Governo, fa polemica anche l'opposizione, in particolare il PD, perché il Partito Democratico apprezza gli sforzi diplomatici del Governo, ma si sarebbe attesa una parola di elogio e sostegno per Emergency. Il segretario del PD Pierluigi Bersani afferma che dopo i primi tentennamenti viene fuori la linea del Governo che chiede di rispettare i codici giuridici. Oltre all'azione diplomatica efficace, una parola in più sul ruolo e il significato della presenza di questa grande organizzazione sarebbe stata gradita, ha detto il segretario del PD Pierluigi Bersani. Vi ricordo ancora il sondaggio di oggi, lo spazio, la voce della gente, diritto di voto a 16 anni. È giusto, secondo voi, è giusto abbassare l'età per andare la prima volta alle urne da 18 a 16 anni? Per i vostri interventi in diretta a ECOBOX potete telefonare al numero verde di Ecoradio 800 029 727, potete inviare un sms e dire la vostra al 349 005 8720 oppure una mail a ecoboxchiocciolaecoradio.it